Da cosa è nata questa iniziativa e che cosa rappresenta per il mondo delle cooperative questo progetto? Nasce naturalmente dalla lettura dei bisogni e dalla grande trasformazione che è il tessuto economico e produttivo, direi sociale e culturale della nostra provincia ma in generale direi questa trasformazione globale nella quale siamo coinvolti. Quindi leggendo la necessità di affrontare queste grandi trasformazioni abbiamo ritenuto che fosse indispensabile mettere a disposizione delle cooperative, soprattutto delle persone che lavorano nelle cooperative, una proposta formativa fortemente qualificante molto legata ai bisogni concreti ma anche alta nella proposta e per cui la scelta di fare questi percorsi insieme all'Università di Bergamo e all'SDM, cioè alla scuola di alta formazione della nostra università.